Torna ad attualità il ruolo della ex Tercas e dell'allora direttore generale Antonio Di Matteo nella vicenda del cosiddetto crack Dimafin, la holding del costruttore molisano Raffaele Di Mario finito in manette cinque anni fa e che adesso rischia il processo che la Procura di Roma chiede per bancarotta fraudolenta per distrazione preferenziale oltre a reati fiscali. Nel crack da 450 milioni di euro, che coinvolge tra gli indagati circa 35 persone e soprattutto l'istituto di credito di Corso San Giorgio, venduto alla Popolare di Bari, a rappresentare uno dei sostegni principali nell'attività di finanziamento del gruppo con sede a Pomezia attraverso l'erogazione di ingenti finanziamenti con modalità non rispettose dei protocolli istruttori adottati dalla banca, dicono i pubblici ministeri romani, per un ammontare di 200 milioni di euro. Questo, secondo quanto sostiene l'inchiesta Capitolina, avveniva grazie all'amicizia con l'ex direttore generale Di Matteo che, a giudizio della magistratura inquirente, avrebbe utilizzato il patrimonio e le potenzialità finanziarie della ex Tercas, ad esclusivo vantaggio di alcuni imprenditori amici. I fondi non erano però solo della Tercas, ma anche di grandi banche come Unicredit, Corporate Banking e Italis. Le somme destinate al gruppo Dimafin, all'esito del commissariamento della Tercas, disposto da Banca Italia, sono stati quantificati come crediti di difficile recupero, ovvero a incaglio pieno. Il gruppo del Tribunale di Roma deciderà sulla richiesta di rinvio a giudizio di tutti gli indagati a fine dicembre.